Buonasera, apriamo anche questa ultima edizione del nostro Tg parlando di crisi, disoccupazione e dignità delle persone. Il sindacato prende le distanze dal governo regionale e lancia la sfida al presidente Paolo Frattura. Intanto, dopo la visita di Papa Francesco e le sue bellissime riflessioni, riparte lo spot di comunicazione sociale sul lavoro realizzato da Telemolise. Il commento di Giovanni Minicozzi. Se non c'è lavoro, non c'è famiglia, non c'è dignità, non c'è democrazia. E' questo lo slogan dello spot di comunicazione sociale realizzato e messo in onda da Telemolise nello scorso mese di aprile. Lo riproponiamo, quanto mai attuale, dopo la visita di Papa Francesco in Molise che ha posto l'accento sul termine dignità nelle sue bellissime riflessioni. Sul tema del lavoro da questa emittente abbiamo incalzato costantemente la regione senza ottenere risultati significativi e abbiamo criticato perfino il sindacato molisano, secondo noi immobile e in alcuni casi succube di un governo regionale paralizzato e impotente rispetto al dramma quotidiano che assilla migliaia e migliaia di famiglie, di persone soffocate dalla mancanza di lavoro, dalle aziende che chiudono i cancelli, dalla disperazione dei figli costretti ad emigrare e dalla povertà che nega perfino il sacrosanto diritto di vivere decentemente e dignitosamente. Con altrettanta oggettività oggi diamo atto a CGL Cisleoil di essersi attivati sulle grandi questioni che riguardano il lavoro, la precarietà, la disoccupazione, le crisi di tante e troppe aziende che hanno già stroncato l'economia regionale e con essa le speranze dei molisani. I sindacati con la grande manifestazione del 28 giugno scorso hanno finalmente riempito le piazze con migliaia di persone le quali hanno urlato la loro rabbia nei confronti di un governo regionale e di una classe politica complessivamente inadeguata e incapace di proporre un progetto in grado di invertire la rotta. Ora però CGL Cisleoil non devono fermarsi, anzi dovranno alzare il tiro nei confronti del governo regionale che appare sempre di più avvitato su se stesso, isolato dalla mortificante realtà che lo circonda e impegnato quasi esclusivamente a difendere gli interessi di bottega e quelli personali di qualche esponente politico di spicco che utilizza le istituzioni per fini privati. In tale contesto i sindacati devono assumersi l'onere di presentare un progetto concreto che vada oltre il semplice riconoscimento dell'area di crisi. Solo così si potrà raggiungere l'obiettivo di realizzare un vero patto per il lavoro indicato da Papa Francesco come via maestra per ridare speranza, lavoro e dignità a chi soffre e soprattutto CGL Cisleoil insieme ai lavoratori dovranno far sentire il fiato sul collo al governo regionale che su questi temi ancora non si sveglia dall'etargo nel quale è piombato fin dalla sua elezione. E a rilanciare l'appello per il lavoro ai giovani è stato anche il vescovo della diocesi di Termoli, Larino. In Molise ha affermato Gianfranco De Luca, siamo ancora in ritardo e bisogna ascoltare il territorio per creare occupazione. Il servizio di Fabrizio Occhionero. Creare le condizioni per far rimanere i giovani sul territorio. Un patto per il lavoro auspicato da Papa Francesco durante la sua visita in Molise che coinvolga tutte le realtà attraverso una rete solida e capace di dare risposte per frenare la fuga verso altre mete. La diocesi di Termoli, Larino, da tempo è impegnata per proporre sostenere iniziative di questo tipo con le esperienze di microcredito Senapa, del progetto Policoro e dell'associazione Un Paese per Giovani che, fondata da due anni, ha presentato il rapporto delle attività. Far superare questo deficit di competenze che i giovani hanno purtroppo in uscita dalla scuola, collocandoli in tirocini formativi. Questo permette ai giovani di apprendere quell'esperienza pratica che nella scuola purtroppo manca. Sono venuti in questo sportello 370 persone, 60 di queste hanno già svolto un tirocino formativo e il 10% ha trovato poi lavoro, cioè il tirocino si è trasformato in contratto di lavoro. Alla mesta celebrata dal Vescovo Gianfranco De Luca in cattedrale è seguito un confronto sui progetti attuati in programma sul tema del lavoro, dal piano Garanzia Giovani alla programmazione europea. Sembra che ancora siamo un po' in ritardo nella nostra regione e auspico questo, che non nasca un progetto con copia e incolla da altre regioni, ma nasca con un raccordarsi, anche se può essere faticoso, può essere un po' più lungo, però con raccordarsi con quello che accade nel nostro territorio, non solo nel basso Molise. E sullo sfondo restano sempre le parole di Papa Francesco. Non è accettabile che ci siano giovani che né né, e poi ha spiegato, che né studiano e né lavoro. Questa è la morte della società e per cui non ce lo possiamo permettere. Qui in Molise purtroppo quelli che restano rischiano di essere giovani né né, perché quelli che vanno fuori intraprendono. E oggi l'area di crisi di Boiano è stata oggetto di discussione al tavolo tecnico con il Ministro Guidi e al Ministero dello Sviluppo, al quale ha preso parte anche l'assessore regionale al lavoro Michele Petraroia. Petraroia sta seguendo anche la proroga per la cassa in deroga per esattorie, che sarà attiva fino al 31 agosto e l'eventuale accordo di solidarietà che riguarda i lavoratori del call center 3GSPA. La conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale, convocata dal Presidente Vincenzo Niro, ha stabilito il calendario delle prossime sedute. Per martedì prossimo, 15 luglio, è fissata alle 10.30 una seduta ordinaria con primo punto all'ordine del giorno, presentato dal Consigliere Nico Joffredi sulla sospensione degli sfratti per morosità incolpevole. Per il martedì successivo, 22 luglio, sono state decise due sedute monotematiche. Al mattino quella sull'autostrada della Molise, al pomeriggio quella sul patto del lavoro per i giovani. E le parole di Papa Francesco hanno riproposto anche la questione sull'apertura dei negozi nei giorni festivi. Ce ne parla in questo servizio Marcella Tamburello. La visita pastorale di Papa Francesco in Molise ha segnato una pagina di storia che non sarà mai dimenticata dalla nostra regione. Emozioni uniche che hanno unito istituzioni, cittadini e volontari che hanno lavorato a lungo, insieme, per accogliere il Santo Padre. Mai il Molise era stato capace di dare il meglio di sé, come è stato per il 5 luglio. Sì, sicuramente un evento eccezionale, fantastico, curato in tutti i particolari ed un'emozione unica per la città. Quindi, anzi, colgo l'occasione per fare un plauso a tutte le organizzazioni che hanno appunto permesso questo grande evento con semplicità, ma allo stesso tempo con professionalità. Soprattutto ai volontari, alle forze dell'ordine, che hanno permesso di fare gioia insieme, fare festa, accogliendo il Vicario di Cristo nella nostra città. Papa Francesco, che in Molise ha incontrato giovani, malati, lavoratori e soprattutto disoccupati, ha lanciato messaggi importanti per la nostra terra. Tra questi, il patto per il lavoro, simbolo di dignità per l'uomo. La domenica, ha detto il Papa durante il suo discorso nell'aula magna dell'università, è il giorno del Signore. Che senso ha quindi tenere aperti i negozi? Questa è la domanda che si sono posti anche alcuni molisani e che magari le istituzioni regionali dovrebbero prendere in considerazione. Mi permetto due considerazioni su queste, appunto, osservazioni che sto sentendo in questi giorni dagli organi, dall'istituzione. E cioè, questa sorta di evadere un po' dalle problematiche che ha posto il Papa. Lui, ripeto, ha fatto 250 km per darci un messaggio. Ora, sento prima le istituzioni, poi anche le forze sindacali che prendono, impacchettano questo messaggio e lo riportano a Roma. La sfida è qui, nella nostra terra, nella nostra città, nel nostro Molise. Ed un altro aspetto, quello sulla sacralità della domenica. Io non ho sentito nessuno, nessuna forza istituzionale, a livelli regionali, che è di pertinenza e la competenza, appunto, proprio delle forze istituzionali regionali. Cito la legge 20 del 2010, che regola la pianificazione commerciale. Non entro nel merito, se uno è d'accordo favorevole alla chiusura e apertura dei centri commerciali. Io, personalmente, sono contrario all'apertura. Ma qual è l'impianto? Qual è la sfida? La scommessa e anche il confronto democratico che il Papa ci ha lasciato e la risposta che le istituzioni danno. Su questo tema, io ad oggi ancora non l'ho sentito nessuno. Credo invece che siamo, sia a livello istituzionale che a livello, appunto, sociale, chiamati a dare una linea di indirizzo, ma anche risposte concrete a queste tematiche. Altrimenti viene meno, resta l'entusiasmo, ma non il messaggio profetico di Papa Francesco. Intanto su questo argomento l'assessore Petraroia ha replicato al consigliere Pilone. Da tempo, ha precisato Petraroia, ha tentato di contrastare un provvedimento che tuttavia è stato approvato dal Parlamento italiano e dal Consiglio regionale del Molise. La mia avversione alla liberalizzazione selvaggia, aggiunto il vicepresidente della regione, è facilmente riscontrabile dagli interventi e dalle prese di posizione ufficiali sulla materia. Adesso parliamo dell'avvertenza ITR. Finalmente buone notizie per i 600 dipendenti senza alcun sostegno economico da più di tre mesi. L'Inps di Sernia, con uno sforzo straordinario dei suoi operatori, è riuscito a mettere in pagamento due mesi di cassa integrazione che verranno accreditati sui conti correnti dei lavoratori venerdì prossimo 11 luglio. Ce ne parla in questo servizio Enzo Di Gaetano. Giorni decisivi per l'ITR sono in arrivo e finalmente i pagamenti e la settimana prossima c'è l'udienza per l'omologa del concordato. Cominciamo con le buone notizie. Grazie agli sforzi dei dipendenti Inps di Sernia, in particolare dell'ufficio prestazioni e del suo responsabile Giancarlo D'Inunzio, venerdì, dopo domani quindi, saranno accreditate in banca sul conto corrente di ognuno dei 600 dipendenti TR, le indennità di cassa integrazione straordinaria dei mesi di aprile e maggio. Un risultato straordinario per la burocrazia italiana, visto che il decreto era arrivato da Roma solo qualche giorno fa. Allora, finalmente siamo riusciti ad avere il decreto di cassa integrazione e questo decreto ci ha permesso di avere il pagamento. Saldati i primi due mesi, l'Inps di Sernia avvierà subito le procedure per il pagamento di giugno. Diciamo che è stato uno sforzo e io ringrazio l'impegno dei nostri colleghi che è stato notevole. Il futuro, prossimamente, appena arrivano i dati di giugno, noi metteremo in pagamento anche la successiva mensilità. I soldi sui conti correnti, giusto? I soldi, l'undici, i primi soldi. E veniamo al capitolo finale del concordato, in calendario il 18 luglio venerdì della prossima settimana, in tribunale a Sernia. Lì dove il giudice fallimentare sarà chiamato a giudicare sulle opposizioni presentate e decretare o meno l'omologa del concordato. C'è grande attesa da parte di Antonio Rosati e del suo management, perché dal giorno dell'omologa partirà l'effettivo start-up di officine tessili italiane, l'azienda che prenderà il posto della vecchia ITR. E c'è da dire che c'è grande fermento e ci sono diversi contatti con i detentori delle licenze per ripartire già con grandi firme. Subito anche le prime assunzioni, con l'intenzione, se tutto andrà per il meglio, di ritornare ai livelli di una volta nel giro di qualche anno. E intanto continuano i problemi per la società Funivie Molise. Lavoratori e fornitori avanzano crediti per circa 200 mila euro. Intanto gli albergatori di Campitello hanno proposto di creare una cooperativa per salvare la stazione scistica. Sentiamo il servizio. Molise è sempre più in crisi e lavoratori sempre meno lavoratori. GAM, zuccherificio e aziende sanitarie sono solo la punta dell'iceberg di un sistema lavorativo al collasso. Se a questo ci aggiungiamo anche la crisi di Funivie Molise, società che dovrebbe gestire uno dei settori trainanti dell'economia locale, il turismo, c'è davvero da preoccuparsi. Dopo le recenti dimissioni del presidente Franco Mancini, che nonostante le difficoltà in cui versava l'azienda aveva accettato a febbraio l'incarico con tutta la buona volontà, aveva detto ai nostri microfoni, di risollevare l'azienda, i problemi per Funivie continuano. I 20 lavoratori stagionali con contratto scaduto ad aprile avanzano ancora gli ultimi tre stipendi e la liquidazione relativa alla stagione invernale. I precari intanto stanno minacciando azioni incesive se il problema non verrà risolto a breve. Il debito nei confronti di questi lavoratori ammonta a circa 120.000 euro, ma pare che proprio in questi giorni la regione abbia affrontato una delibera di 200.000 euro per saldare i conti di Funivie. Non sarebbero solo i lavoratori stagionali ad avere un credito, ma ci sono diverse società di servizi che devono essere ancora pagate ed alcuni lavoratori fissi che avanzerebbero addirittura a 10 mensilità. Intanto gli albergatori di Campitello, i più preoccupati per tale situazione, per evitare di far morire il turismo e gran parte dell'economia locale, hanno proposto, come già successo per la gamma di Boiano, di creare una cooperativa per garantire la sopravvivenza della stazione sciistica, idea che pare piaccia anche alla regione, che in questo caso uscirebbe fuori dalla società. Al momento non è dato sapere quello che succederà per Funivie e Molise, ma di fatto il turismo locale andrebbe tutelato da tutti i punti di vista, dall'alta montagna fino al mare, cosa che i nostri amministratori locali stanno dimenticando troppo spesso, a discapito della già debole economia molisana. Il parlamentare del PD Danilo Leva ha scritto ai prefetti di Campobasso e Isernia per chiedere un confronto sull'assetto di poste S.P.A. Timiamo, ha spiegato il parlamentare, che la riorganizzazione che poste ha avviato già da qualche anno possa avere conseguenze negative sia per i posti di lavoro che per la qualità dei servizi ai cittadini. Leva ha ribadito che per questo è opportuno convocare un tavolo tra i sindaci, i presidenti delle province di Sernia e Campobasso, la regione, i direttori provinciali di poste, i sindacati del comparto, i presidenti delle camere di commercio e l'università. Solo un'analisi completa del problema, ha concluso Leva, potrà offrirci un quadro della situazione indispensabile per avviare un dialogo con il governo. I cantieri per la ricostruzione sono fermi e le imprese sono ancora in attesa di essere pagate. A lanciare l'allarme è l'ACEM che annuncia un'assemblea straordinaria per decidere le iniziative da intraprendere. Ce ne parla in questo servizio Anna Maria Di Matteo. Nonostante gli annunci, le rassicurazioni, le tante promesse del governatore, la ricostruzione post terremoto è drammaticamente ferma e le imprese impegnate nei lavori attendono ancora di essere pagate. Questa è la situazione in Molise, ma ora, dopo l'ennesima apertura di credito concessa dall'ACEM alla regione, la misura è colma. I costruttori ed illi del Molise dicono basta, è arrivato il momento di agire. Come primo passo il presidente Corrado Di Niro ha annunciato la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci per decidere le iniziative da intraprendere, iniziative che saranno eclatanti, ha promesso. Si sta perdendo del tempo prezioso, è denunciato, ma le aziende hanno tempistiche molto diverse da quelle della politica. È dunque necessario uno scossone perché non si può più assistere, impassibili, al declino di un settore come quello dell'edilizia, che è trainante per l'economia regionale. E in effetti, proprio a causa dei tempi biblici della politica e dell'inerzia degli amministratori regionali e soprattutto delle promesse fatte non mantenute da parte del presidente della regione Fratture, del consigliere delegato Ciocca, molte imprese ed illi molisani sono finite sull'astrico, altre sono sul punto di fare la stessa fine e i licenziamenti ormai non si contano più. Negli ultimi anni Molise il settore dell'edilizia ha perso il 50% dei posti di lavoro, che tradotto in cifre vuole dire centinaia, centinaia di lavoratori mandati a casa. Siamo molto preoccupati per la piega che sta prendendo la vicenda, ha aggiunto il presidente dell'ACEM. Stiamo assistendo al rinvio degli impegni, compresi i pagamenti alle imprese, degli 8 milioni di euro promessi dal governatore. Ha fatto sapere Di Niro, ad oggi abbiamo ricevuto solo una minima parte, insufficiente per mandare avanti le imprese e dunque per l'ACEM il governo regionale deve dare risposte e soprattutto deve dare certezze sulle date entro le quali saranno fatti i pagamenti. Preoccupazione per gli arretrati che non arrivano, ma anche per i lavori che devono ancora partire e sulla loro copertura finanziaria. È molto realistico il rischio di non essere in grado di spendere le risorse entro il 2018, data fissata per portare a termine la ricostruzione a concluso Di Niro e comunque in ogni caso così non si può più andare avanti per il bene di tutti. E alle promesse non mantenute di Paolo Frattura e alle giravolte di Salvatore Ciocca si contrappone il grido di allarme lanciato dalle imprese al quale si aggiunge quello dei sindaci del cratere impotenti ormai e quello ancora più drammatico dei tanti troppi cittadini che a distanza di 12 anni dal sisma vivono ancora nei prefabbricati. Intanto a proposito di terremoto una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata questa mattina alle 4.43 dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nei Monti Frentani in provincia di Campobasso. L'evento è stato localizzato ad una profondità di circa 27 chilometri. Adesso la cronaca. Sono stati ripresi dalle telecamere i due banditi armati di fucile che hanno svaliggiato il distributore Total Erg di Campomarino Lido. I carabinieri stanno esaminando i filmati, hanno ascoltato le testimonianze del personale e dei clienti presenti per risalire all'identità dei rapinatori. Intanto in risposta ad una interrogazione della deputata Laura Venitelli, il sottosegretario all'interno, Domenico Manzione, ha riferito che dal 2011 al 2013 il numero dei crimini in Basso Molise è calato, tranne quello delle rapine e che gli arrestati sono risultati quasi sempre essere campani e pugliesi. Priorità alle famiglie in emergenza economica e abitativa e un monitoraggio dei servizi offerti dalle scuole comunali. Sono i primi impegni del vice sindaco di Termoli Maria Chimisso che si occuperà del vasto settore del sociale. Sentiamo. Le politiche sociali sono state al centro della campagna elettorale del sindaco di Termoli Angelo Sbrocca che fin dall'inizio ha sostenuto i concetti di giustizia sociale e di benessere, un compito arduo in una città dove tante famiglie non riescono ad arrivare a fine mese e sono sempre più numerosi cittadini che chiedono aiuto al comune e alle associazioni di volontariato. A gestire la delega e le attività sociali sarà una donna, il vice sindaco Maria Chimisso. Per fare bene il proprio lavoro bisogna conoscere le cose. Io sto cominciando adesso e quindi il mio impegno in questo momento è entrare fino in fondo nelle problematiche della gente, delle famiglie, delle necessità. Problematiche acuite ovviamente dal periodo di crisi economica e sociale che stiamo vivendo. Famiglie in emergenza economica ma anche abitativa. È un passaggio molto delicato, le famiglie sono in una condizione di disagio, aumentano il numero degli sfratti. Bene, lavoreremo molto su questo per soddisfare le esigenze di tutti, nei limiti ovviamente concessi dagli alloggi disponibili. La Chimisso, preside dell'Istituto Alberghiero, si è messa al lavoro anche per una ricognizione dei servizi scolastici. Realizziamo le richieste delle famiglie in merito alla possibilità di portare i loro figli a frequentare l'Iasili Nido e le scuole dell'infanzia comunali. C'è questa disponibilità? C'è la disponibilità e c'è anche richiesta. Ci fa piacere perché vuol dire c'è fiducia del servizio istruzione fornito dal comune. L'esponente della Giunta punta anche su una rete tra le numerose associazioni presenti in città. Chiamare a un tavolo di concertazione, di incontro più esattamente tutte le associazioni e metterle in rete. Sia perché così si risparmiano energie e si spendono meglio le energie di che abbiamo a disposizione, sia perché l'offerta fondamentale che il terzo settore fa alla comunità e alla società sia in qualche modo innalzata e migliorata, raffinata per intenderci. Proseguono le indagini sui pozzi di Contrada Capogliaccio a Cerce Maggiore dove dal 1981 al 1988 furono smaltite sostanze con ogni probabilità dannose per la salute e l'ambiente. Proprio in queste ore ha fatto sapere il segretario regionale dell'Italia dei Valori Cristiano Di Pietro. Dopo l'esposto denuncia inoltrato da Antonio Di Pietro e dal suo ufficio legale, i vigili del fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo insieme ai tecnici dell'ARPAM. Già a dicembre Antonio Di Pietro si era interessato della vicenda dei pozzi di Capogliaccio, incontrando la comunità della zona e raccogliendo le sollecitazioni degli abitanti. Proprio in quella occasione Di Pietro prese l'impegno di garantire l'assistenza a titolo gratuito al comune di Cerce Maggiore e di provare a cercare la verità sui pozzi. Siamo in piena estate e molti molisani hanno già pianificato le vacanze. Vediamo come sta andando in questo servizio. Ad Alberto Cazzato dell'Agenzia Di Paola Viaggi, dunque siamo in piena estate, qual è il termometro delle vacanze? Il termometro delle vacanze è un poco verso il basso, veramente, perché non è che ci sia tanta gente che naturalmente viene in agenzia a prenotare. Comunque vedo negli ultimi tempi che ci sta un buon ritorno, però le destinazioni sono sempre italiane e mai all'estero e mai con un tour come si faceva una volta. In questo periodo soprattutto il mare? Beh sì, soprattutto il mare e le capitali europee, questo è tutto. Abbiamo finito il periodo dei viaggi di nozze perché ormai i viaggi di nozze non se ne fanno più o quantomeno e adesso si prenota solamente il mare. Gli sposi scelgono spesso vacanze esotiche? Beh, per gli sposi è un capitolo a parte perché effettivamente loro scelgono sempre dei viaggi importanti perché una sola volta si veniva a viaggio di nozze, almeno si andava, forse adesso non più. Comunque il primo viaggio di nozze è il viaggio di nozze importante. Si presume che l'anno prossimo almeno le cose possono andare diversamente, possono andare ancora meglio. Notiamo queste riprese e l'abbiamo notato anche con i viaggi di nozze. La tua agenzia è sicuramente la più longeva? Beh sì, noi ormai ci siamo qua da tanto tempo quindi diciamo che considerando mio suocere e considerando il padre mio suocere quindi adesso arriviamo quasi a 100 anni di attività si era sparsa anche la voce che l'agenzia chiudeva eccetera eccetera effettivamente non è vero di tutto questo perché naturalmente ci saranno le nuove generazioni o quantomeno le mie figlie che molto probabilmente vorranno continuare in questa attività anche se non è così bella e così redidizia come lo era una volta. Intanto Toscana, Campania e Lazio si aggiudicano il podio delle bandiere del gusto di Coldiretti. Il Molise finisce comunque davanti a regioni come Friuli, Marche, Abruzzo, Umbria e Valle d'Aosta collocandosi a metà della classifica. Trovati i primi resti umani nel sito del Paleolitico di Isernia si tratta del dente di un bambino ed è una straordinaria scoperta di enorme risonanza attesa da ben 36 anni da quando cioè furono rivenute le prime testimonianze del sito risalente a circa 700 mila anni fa. Sentiamo. È scientificamente provato, quello di Isernia è realmente l'insediamento umano più antico d'Europa. L'homo eserniensis di cui tanto si era favoleggiato ma di cui ancora non c'erano testimonianze scientifiche è realmente esistito. A 36 anni dalla scoperta sono stati infatti rivenuti i primi ritrovamenti umani nel sito del Paleolitico, alla pineta di Isernia. Si tratta di una importantissima scoperta che dimostra scientificamente come ci fosse realmente un insediamento umano nella zona in cui dopo centinaia di migliaia di anni sarebbe nata Isernia. Il reperto è un dente di bambino che allo stato attuale delle ricerche rappresenta il più antico resto umano della penisola italiana. Un ritrovamento effettuato grazie agli scavi condotti in collaborazione tra sovrintendenza per i beni archeologici del Molise e l'Università di Ferrara con la direzione scientifica di Carlo Peretto, professore ordinario del Dipartimento di Studi Umanistici, tuttora titolare della concessione di scavori lasciata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Si tratta di un primo incisivo superiore sinistro da latte di un bambino deceduto all'età di circa 5-6 anni. Il dente mostra caratteristiche particolari che non si ritrovano negli altri reperti rinvenuti in Europa. Il reperto viene attribuito all'uomo di Heidelberg sulla base delle sue caratteristiche. per le sue dimensioni e per la sua età cronologica. In Europa, infatti, l'uomo Heidelbergensis è attestato a partire da circa 600.000 anni e rappresenta l'antenato dell'uomo di Neandertal, che si diffonde successivamente in tutta Europa e che scompare in seguito alla diffusione dell'uomo anatomicamente moderno, Homo sapiens, almeno a partire da 40.000 anni fa. Il ritrovamento umano alla pineta porta un arricchimento notevole al giacimento, già noto per la complessità dell'archeosuperficie, esplorata in questi anni per la ricchezza dei reperti faunistici, per l'articolata produzione di reperti in selce e per le evidenze connesse con le strategie di sussistenza in un ambiente di 600.000 anni fa. La scoperta dei resti umani chiaramente riporta il sito di Sernia all'attenzione di tutta la paleontologia mondiale e sicuramente produrrà conseguenze positive per la nostra regione, attirando in Molise nuove ondate di studiosi e visitatori, che potranno vedere da vicino tutti i ritrovamenti e la paleosuperficie nei locali di un museo finalmente aperto e perfettamente funzionante. Ci sono voluti quasi 40 anni, ma alla fine quella dell'Homo eserniensis non è più una favola, ma una realtà scientificamente provata. È tutto e tutto anche per questa ultima edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci. L'informazione torna alle 7 con la rassegna stampa. L'informazione torna alle 7 con la rassegna stampa. L'informazione torna alle 7 con la rassegna stampa. Grazie.